Dunque, siamo con il nostro Don Stefano Cascio e in questo nostro c'è sempre una grande forma di affetto, un ringraziamento perché questo lungo cammino della Quaresima è stato tenuto così, punto per punto, dalla tua voce e dalle tue letture. Domenica, oggi è venerdì e aspettiamo la Domenica di Ressurrezione. Questo è il momento e si ripete ogni anno e ogni anno Don Stefano abbiamo un motivo in più per arrivare con una speranza più forte, la Pasqua significa così tanto, forse a volte da bambini lo capiamo poco ma crescendo lo capiamo ancora di più. Certo, però questa grande speranza non la possiamo staccare da quello che stiamo vivendo oggi, cioè il venerdì santo, cioè la croce. L'uno e l'altro vanno insieme e non possiamo pensare alla Ressurrezione senza pensare a questo momento che stiamo vivendo adesso, di questa giornata particolare in cui ricorderemo fra poco, alle tre del pomeriggio, c'è questo ricordo della morte di Gesù sulla croce e con l'ufficio della passione che è un momento particolare che viviamo nelle nostre chiese. Allora, oggi non si celebra l'Eucaristia? No. Oggi non si celebra l'Eucaristia, c'è l'ufficio della passione. Ieri, giovedì, giovedì santo abbiamo celebrato con grande enfasi quest'ultima cena in cui è stato istituito l'Eucaristia e abbiamo messo questa Eucaristia in un luogo particolare che è l'altare della riposizione, ne abbiamo parlato ieri, che non è il sepolcro, ripetiamolo. Oggi invece la chiesa è completamente vuota. Se c'è un croce fisso deve essere nascosto e le statue devono essere nascoste, non c'è più niente. L'altare è completamente vuoto, non c'è la tovaglia, non ci sono le candele, non c'è più niente. Se uno entra in una chiesa oggi non trova niente ed è molto strano, no? È molto importante. I sacerdoti entrano in silenzio, non ci sono canti, e si prostrano a terra come segno di umiltà. E poi inizieremo con la lettura della passione. Allora, siamo a Giovanni, 20 dall'1 al 9. Grazie Don Stefano. Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattina, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro, e osservò i teli posati là e il sudario, che era stato sul suo capo. Non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Don Stefano, noi ti abbiamo chiesto di portarci alla domenica di Pasqua. È in quella frase, e vide e credette, che ogni volta che la si riascolta, crea commozione, perché dobbiamo immaginare che cosa sia stato in quell'istante. Dobbiamo provare a entrare in queste due figure che vanno ad accertarsi di che cosa sia accaduto. È questa la Pasqua. Un giorno, non so se posso dire una cosa che ho vissuto, ma un giorno sono stato a Gerusalemme, e ho passato la notte nel Santo Sepolcro, perché solo credo cinque cattolici possono stare dentro durante la notte, perché viene chiuso a chiave, poi la chiave viene data a una famiglia musulmana, insomma c'è tutto questo rito. E poi la mattina, alle cinque del mattino, riaprono e sono andata a farmi una doccia, dovevo tornare velocemente, perché dicevamo una messa al sepolcro e correvo, perché ero come sempre in ritardo, e pensavo proprio a questo momento qua, in cui Pietro e Giovanni hanno sentito dire che il sepolcro era volto e correvano lì, ma correvano senza ben sapere verso dove stavano andando e che cosa. Ed è un po' quello che certe volte forse noi viviamo, no? Perché sì, lo sappiamo, Gesù è risorto, eccetera, però non so se ce l'abbiamo compreso bene. Ecco loro, tra l'altro non era mai successo, quindi per loro era una sorpresa enorme, stavano correndo senza ben sapere che cosa avrebbero trovato. E c'è questa frase bellissima che hai sottolineato, Giovanni vide e credette. E questo è meraviglioso, perché solo in quel momento lì, solo alla visione capisce quello che gli è stato detto, perché tra l'altro lo dice anche la scrittura, infatti non avevano ancora compreso la scrittura. Cioè nessuno di loro che avevano seguito Gesù fino adesso avevano capito. E di fatti il venerdì santo scappano tutti e Pietro rinnegano. E quindi c'è questo momento in cui sotto la croce c'è solo Maria e Giovanni, ma gli altri dove stanno? E questo è il nostro cammino. Noi siamo quelli che spesso rigettiamo, rifiutiamo, facciamo fatica ad accettare. Quando abbiamo problemi tante volte diamo la colpa a Dio o proprio pensiamo che non ci sta, non esiste, non... Ecco questo cammino... Scappiamo dalla nostra fede, scappiamo da... Quello cammino che hanno fatto loro lo facciamo anche noi. Però anche noi nella nostra vita ci deve essere un momento in cui come Giovanni vediamo e crediamo. Io ti ringrazio ma a nome di tutti, Don Stefano, perché vedi il racconto personale, ce l'hai fotografato benissimo, no? In quel luogo, in quel momento, fa sì che la parola santa e sacra che noi sentiamo tutte le domeniche e che andremo a sentire la domenica di Pasqua, non la diamo per scontata perché la conosciamo, perché la sentiamo per fortuna da quando siamo piccoli con il catechismo e mano a mano e la cresima e mano a mano che cresciamo. Ma ci mettiamo nei panni di quegli uomini, perché è l'unico modo per pensare che un giorno noi vedremo e crederemo alla risurrezione. Anzi, ti devo dire una cosa. Certo, vedere il volto di Dio lo vedremo nella nostra Pasqua, cioè Pasqua significa passaggio, no? Quindi dalla morte alla vita. Ma vedere e credere lo possiamo già vivere adesso. Nel senso che se noi guardiamo la nostra vita, ci renderemo conto che Dio è stato presente in alcuni momenti particolari della nostra vita. Tante volte noi non ce ne rendiamo conto, ma se guardiamo bene, vediamo. E se vediamo, forse crediamo. Perché risorgere non dobbiamo aspettare il domani. Già da adesso, la nostra vita, abbiamo già iniziato la vita, dal battesimo abbiamo iniziato. Noi siamo stati battezzati nella morte e resurrezione di Cristo. Quindi noi già da adesso abbiamo iniziato. Risorgere, rinascere, rinascere. Chiediamo a Don Stefano, ovviamente ecco un'unica notazione. Poi mi sposto un attimo a Parigi con te, Don Stefano, nella tua Francia. Il sabato è un altro giorno, il sabato santo, è giorno di silenzio, è giorno di preghiera. Questi sono giorni di… È un giorno aliturgico, nel senso che non esiste nessuna liturgia il sabato, non c'è niente. Niente. Siamo nell'attesa della resurrezione, quindi non c'è messa, non c'è… non c'è niente. Ovviamente tu preghi… Certo, però c'è questo silenzio. Però voglio dire non c'è niente di previsto nella Chiesa, perché siamo nell'attesa. È solo una notte, la notte di Pasqua, quella notte, la veglia delle veglie, la veglia di Pasqua, dove ciascuno alle 22, alle 23, secondo le Chiese, si inizia questa veglia in cui si ricorda la resurrezione con tanti segni che sono meravigliosi. I segni meravigliosi. Il segno che voglio… l'ho interrotto solo per un attimo, perché guardo sempre anche ai nostri minuti a quanto manca. Allora, l'incendio di Notre Dame. È stato… è stato atroce, terribile per tutti, per tutti. E al contempo, quando abbiamo sentito, è salva, perché le mura hanno retto, ora si capirà come. E quando è arrivata questa fotografia, non Stefano? Sì, meravigliosa. Questa fotografia è risorgere. Sì, non vediamo bene, ma c'è la croce luminosa, la croce vittoriosa, in un certo senso, no? Questa croce dorata. E sotto c'è la Madonna con Gesù, una pietà. Una pietà. Quindi è il venerdì santo, ma nello stesso tempo c'è questa croce vittoriosa che ci ricorda anche la resurrezione. Cristo non è più sulla croce, no? E non riusciamo neanche più a vedere quello che c'è sotto. E quindi è anche vittoriosa. E se posso aggiungere una cosa che ci collega un po' alla notte di Pasqua, lì ci sono anche due elementi che abbiamo vissuto in quella notte. C'è il fuoco e c'è l'acqua, no? Dei vigili del fuoco. Che è esattamente i due elementi che ci saranno nella veglia pasquale. Il fuoco, la luce di Cristo, che viene accesa con il cero pasquale, e l'acqua che viene benedetta, no? L'acqua lustrale del battesimo, perché quella notte lì ci sono anche i battesimi, perché proprio ricordiamo la resurrezione di Gesù. E quindi è interessante anche questo fatto che ci hai invitato a guardare questa foto, perché è proprio quella notte lì. I due elementi, acqua e fuoco. E la possiamo dedicare a tutti noi e a tantissimi questa foto. Sì, perché noi speriamo anche vederla risorgere, no? Questa cattedrale meravigliosa di Notre Dame. C'è stata. Tu hai sottolineato l'importanza della preghiera delle tante persone che spontaneamente, nei giorni scorsi e nella notte in cui tutto questo accadeva, nel pomeriggio e notte in cui tutto questo accadeva, ci sono fermati a pregare. Sì, fino a che si è saputo che ormai l'incendio era terminato. Sì, è stato bellissimo, non so se l'avete visto, ma queste persone in ginocchio che cantavano le Je vous salue Marie, l'Ave Maria, e cantato da tanti giovani, tra l'altro, che erano presenti, ma da tutta questa folla, che mostra che l'anima della Francia non è morta. Questa chiesa francese di cui tante volte si dice che è finita, con questa laicità la francese, eccetera. Ma non c'è niente da fare. Quando il francese è toccato nelle sue radici, ritrova la sua anima e ritrova il suo Dio. Come sottolineo tante volte, lottando anche tanto Papa San Giovanni Paolo II, le radici cristiane dell'Europa può bruciare tutto ciò che dell'albero si vede fuori, ma le radici non bruciano. No, e le pietre vive sono ancora qua. E questo forma il corpo di Cristo. Don Stefano Cascio, noi dovremmo stare in silenzio oggi, invece ti salutiamo con un grande applauso, perché è stata una gioia e un grande privilegio averti con noi all'ora solare. Davvero un grandissimo privilegio. Grazie di tutto quello che hai dato e fatto per noi. La recita, la coroncina della Divina Misericordia, siamo noi e poi, lunedì alle 14, l'ora solare. A noi non resta che, in silenzio, però, lo leggete negli occhi con infinito affetto, dedicarvi una buona e solare Santa Pasqua. Grazie a tutti. Grazie, M. Stefano. Grazie. Ci vediamo domani. Grazie, grazie. 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 Grazie.